Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Meu nome è Verdi e io sono un cara molto vera! Io saio combando tutto il mondo da ravina! Io vò nel PVP! Io sono il rei del PVP! Io sto sempre lagato! E io gioco long! No Contrini Strike io faccio tutto! No atraso, no AK-47 e nel M4x4 Io vò combando tutto il mondo di Deagle! Di mia facca, di zeus! Io sto di Alpi, io fico zoando di Alpi! Io vò l'arrusco a bomba! Tô nem ai! Faço 6k di Deagle! Sendo que só tem 5 jogador! Io mato 6! Io mato 8! Io mato 12! Io mato tutto il team! Io mato solo io vivo! Io sono un cara che mato tutto il mondo! Tu hai que reformare l'embaio! Tu hai que reformare l'embaio! Tu hai que subito! Io chebrei! Tu hai que reformare l'embaio l'embaio! Cara, olha o que tu fez! Tu encharcou! Tu hai 30 andares! Tu encharcou! Tu hai que fare tutto di nuovo! Ah non! Ah non! Ah non! Grazie a tutti! 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 I love you. Yo dodge was good. ahahah 確かに笑ってさ ねえ悪いイメージが 悪いイメージが 植え付けられちゃうでしょうが こらこらこら 俺そんな ねえ そんな意地悪じゃないんですよ ねえ ねえ あ死んだ バカしたから これいけるか うわすごい 生きた あぶねえ あぶねえ あぶなかった今 あははは あははは お疲れ 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 アプテ hydraulic レッジ 手マンクラム むねえ e avrete solo a collerci il codice in il carré dorato sul sito minecraft prima di l'envoyer Voi dovrete se collegare con il vostro conto microsoft liato a vostro conto minecraft è molto importante Poi potrete finalmente valire l'activazione del codice D'ailleurs un mail di confirmation vi sarà envoyato nelle minuti che seguire Voi potete anche ottenere un masco twitch animato Exclusivamente per Bedrock In voi abonando a un streamer minecraft Ma non con un subprime E per lo recuperare Ce sarà exactamente la stessa Du hast diesen Clip bestimmt geöffnet Um rauszufinden Wie du dieses wunderschöne exklusive Twitch Cape bekommen kannst Das Ganze ist ganz einfach Du schaust diesem Stream hier 15 Minuten zu Und dann wird dir schon bald der Code angezeigt Es kann manchmal sein Dass es ein bisschen länger als 15 Minuten dauert Hier oben auf diesem kleinen Symbol Wird dir dein Code und dein Cape dann angezeigt Da kannst du einfach draufklicken Und ihn einlösen Es gibt auch eine Maske für die Bedrock Edition Das Cape ist für beides Für Java und Bedrock Und die Maske für die Bedrock Cerquita, eh, Juan? Yo te voy a esperar aki Pero hay que hacerlo ya Porque como me deshauné Me voy a poner in una mala hostia Había perdido 90 y pico semi Esto es broma No te puedo creer Es broma, es broma, es broma 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 Es broma, es broma, es broma Es broma, es broma, es broma Uuuuuh! VYBUCHEJ UST! Ma che cosa è da da passi? Ehm... non sei fai... ma... We work with like... 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 I don't want to... Explosão? É... Eu, velho... Isso é um tapa na sua cara, velho... Sério mesmo, o cara pegou o seu terreno... Não, sem noção... Sem noção... Aqui, olha, foi sem noção... Eu, velho... Não tem... Tem que deixar um recado, tá ligado? Caralho, se eu não tô com a porra do negócio... Na mão... Que... 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 A curiosidade matou o gordo... Se morreu, mamou... Não morri... Só não foi suficiente... Caramba... Caramba... è una armadilha per tu bt oh mio ok è una armadilha per tu bt no e come, sai? perché non posso essere stupido? tutti stanno cercando di essere certo che ci sono tutti i ragazzi non c'è non c'è non c'è non c'è let's go 23.43 nuovo pb chat je vous avais dit qu'on allait faire un backfab